Come avete visto anche First Pharma e altri sono particolarmente concerned, un po' preoccupati della tematica dei congressi, dei convegni, dei simposi medici. Qui mi permetto di fare un'autocitazione, che era poi una citazione che avevo preso anche da altri, che era i congressi e convegni passeranno da giacca e cravatta a pantofole e vestiti. La trasformazione la stiamo già vedendo e che questa trasformazione, a causa di questa emergenza Covid-19, la vediamo solamente accelerare. Una parte della distribuzione dei contenuti, dei congressi, dei simposi e così via, già avviene larghissimamente attraverso il web, attraverso l'online. Su questo vi voglio far notare che assomiglia molto, se volete, al tema che ieri sera leggevo su un bell'articolo del post, che è l'industria dell'entertainment e nell'ambito, diciamo, come sta vivendo la crisi del coronavirus. Secondo me questo, il fatto che le produzioni siano ferme, gli attori, gli artisti siano fermi, le attività cinematografiche e teatrali siano ferme e che naturalmente noi non vedremo i film che sono stati già prodotti prima di settembre e che a settembre ci sarà un affollamento di film prodotti in precedenza, però nel frattempo non avremo prodotto nuovi film e quindi ci sarà una situazione, diciamo, quantomeno attualmente poco chiara, sono fermi i parchi tematici e così via. Tutto questo argomento percorso è già la coda di un, la cui testa è Amazon Prime, Netflix e così via. Cioè tutto questo percorso è che Netflix oggi è più potente rispetto a Disney e a Warner Bros. e a Sony, nel senso che la capacità distributiva è diventata più importante di quella produttiva. E quindi Amazon ancora una volta ci ha visto giusto nel fare un canale di Amazon di contenuti e come vedete questi temi in qualche modo sono disruption non solo per il farmaceutico ma lo sono per la gran parte dei temi che diciamo sono affrontati dalla mercenza che stiamo vivendo. Grazie a tutti.